Il nostro movimento dopo il congresso di oggi manterrà la sua struttura agile, snella, vogliamo restare appunto un movimento politico maggiormente presente sul territorio e quindi radicato attraverso una struttura verticale che consenta alla base di poter esprimere i propri vertici. Poi daremo spazio ai giovani, alle organizzazioni di categoria, quindi alle competenze specifiche di ogni nostro iscritto. Se vogliamo è un movimento che serve anche da supporto ad una coalizione di governo che ha bisogno di nuove competenze, di nuove abilità, di suggerimenti, di critiche, di stimoli perché la politica è fatta anche di questo confronto.